Apre l'hotel Star Wars, che la forza sia con voi Esistono hotel a forma di castello incantato, altri immersi in straordinari parchi acquatici, ci sono poi hotel stregati e, dulcis in fondo, a breve prenderà vita anche l'hotel ispirato a Star Wars Disegnato e voluto dalla Disney, aprirà nel cuore della Florida, in uno dei parchi a tema Galaxy Edge in costruzione negli States Questa notizia ha già fatto il giro del mondo ed ha entusiasmato i milioni di fan che purtroppo dovranno attendere ancora un po' prima di mettere piede nella nave spaziale. La data di apertura è prevista infatti per il 2019 La forza sarà davvero contente L'albergo, a forma di nave spaziale, è stato studiato e curato dalla Disney nei minimi dettagli, così da farvi vivere un'esperienza al 100% stellare, o per meglio dire galattica. Fuori dalle finestre e teleschermi ci sarà solamente lo spazio La forza sarà davvero contente Anche se dovremo attendere ancora un po', quello che si prospetta sembra qualcosa di veramente magnifico. Questo slideshow richiede Yavascript Disney, il nuovo concept di vacanza a 360 gradi Disney, che negli ultimi anni ha allargato sempre di più i suoi orizzonti, si pone l'obiettivo di realizzare per i suoi ospiti una vacanza indimenticabile, a 360 gradi, nuovo concept strategico dell'azienda. Lo scopo è quello di far vivere ai suoi clienti una favola Disney attraverso un'esperienza immersiva, per regalare alle persone un'avventura completa. Oltre all'hotel, totalmente a tema, Disney sta lavorando su due progetti, le nuove aree tematiche di Star Wars ad Orlando e in California, che prenderanno il nome di Galaxy Sege. Nei parchi saranno realizzate due giostre, una dedicata al volo spaziale sul Millennium Falcon e l'altra Star Destroyer. Solo sul maxi schermo del cinema, degno del cavaliere Jedi che si nasconde in voi.